Oh, questa è follia! Vabbè, io non lo so perché. Cari amici di Nina Verdi Orizzonti, non si finisce mai di imparare, oggi ci buttiamo giù, non so quanto sia l'altezza, ma... Mi sono fumata quattro sigarette prima di partire. Se lo sapevo. La senti lì? Ok, pronta? No! Dai! Vai, 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 vai. Corri, corri, corri. Ciao! From Brazil! Ci vediamo! Ci vediamo in volo! Ci vediamo in volo! Via, 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 via! Ancora, ancora, ancora! Ancora, 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 ancora! Ancora, 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 un po', un po', bom! Oh! nooooooo Grazie a tutti.